...di Nicolai... ...dell'associazione... ...di Aiuto Sociale... ...prestaventare l'associazione sociale di San Pieterburgo... ...prego, un incremento molto breve... ...in ambito proprio del saluto e quindi... ...in ramo del приветствие... ...e l'occasione dell'incidente... ...e la scuola del servizio del servizio... ...dame, dame e dame... ...dame, dame e dame... ...dame, dame, dame... ...ya ringo... ...vaztare l'acquita... ...prego, i sanzo... ...di la sanzo... ...e l'esmerio... ...e l'esmerio... ...di la sanzo... ...di la sanzo... no i 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 le società che si occupano di beneficenza, noi crediamo che che la terra abbia meno di più di sara. Esa è una domanda che il suo bene, è un'obiettivo. La terra è la terra è la terra che la terra è la terra. La terra è la terra è la terra. La terra è la terra che il nostro vero è la terra. Questa idea non appartiene solo al nostro grande scrittore Tolstoi, ma anche un'idea christiana. Questa idea non è ancora ben inteso, non lo capiscono bene, che i valori spirituali della cultura possono creare un effetto sociale e tanto è importante quanto possa essere un investimento finanziario. Non è sempre un investimento emissorio, un investimento finanziario può rendere le persone più uomini, può rendereli più cordiali, più buoni. Scusi, le nostre vittori, non capiscono bene, 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 non capiscono bene. E, in seguito, il nostro è stato un'organizzazione, lo Stato non ci aiuta, però noi abbiamo creato, costruito un sistema di informazioni a base, una rete di informazioni a base di comunicazione, con lo scopo di temi, e aiutare il contatto tra quelli che hanno bisogno di aiuto e quelli che sono in grado di dare questo aiuto. e aiutare molte persone, con lo scopo dell'altro, senza rivolgersi ai funzionari, ai progetti. il Geoff sullo, la nostra voce è la nostra società, funziona Torreiro, il nostro associazio... La nostra società è il nostro associazio, è il nostro asso. ...però che sognano, è moriremo... ...e come конечно, non sono stati, ma comune... ...e come te... ... Chi che vogliono dare il nostro aiuto, aiutare ai quelli che vogliono dare. Grazie per la visione. 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 E noi siamo riuniti qua per realizzare una delle più generose, più elevate idee del nostro tempo. E vorrei salutare a tutti i nostri lettori, tutti i presenti questa sala, i nostri lettori aspettano con impazienza i futuri successi, le future opere di voi. Nel corso di una delle conferenze stampa a Bosca, se non mi sbaglio, Vladimir Maximov ha parlato dell'attività sociale, dell'attività culturale del signor Armando Verdiglione e ha detto così, congresse, che ha detto così, hanno la differenza con altri dati e con essi non ci sono ordini di giorgio fisso, non ci sono limiti fisso di prestabilità. . 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 Domenico D'Esanzini, non solo vedendo il suo libro, ma anche il nostro popolo di Domenico D'Esanzini. Domenico 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 D Per il momento il cielo d'Europa che ci permetta di riconoscere tutto questo, purtroppo non esiste. E vorrei augurare tanti successi al congresso per questa opera molto elevata e molto gentile. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 in questo modo abbiamo potuto vedere il film e il allora io vedo che che ci mi 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 di collaborare con l'organizzazione francese. Mi chiedevo, che mi ha dato un programma e un programma in francese. Ciò che mi chiedevo a fare, è tornare il tempo alla fama di Cristiano di installare l'apparello di direzione simultanea. Mi speriamo che ora la tecnica, finalmente, поставere il nostro sistema sifronico. Abbiamo anche con il comitè e il progetto per arrivare, perché la collaborazione con il congresso NAPOC ha fatto 2 anni qui. Inizia la congresso con il congresso, il congresso di NAPOC ha fatto 2 anni, con la nostra congresso con il congresso di NAPOC, congresso nei nostri, congresso di NAPOC, congresso di NAPOC. Inizia il congresso di NAPOC. Abbiamo ricordo di Presidente dell'Università Italiana Il s'appelle Tomas Orea, qui è la CERT. Tomas Orea, présidente di una società di pubblicità, e che è interessato a un progetto particolare per l'avete interna. Nella sala c'è il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano collegati con la presidenza di consiglio. Il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano 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 i diritti. Il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano i diritti dell'uomo che erano i diritti dell'uomo che erano i diritti. Il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano i diritti. Il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano i diritti dell'uomo che erano i diritti. Il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano 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 i diritti. Il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano i diritti dell'uomo che erano i diritti. La Russi ha domandato di essere inscrita in questa federazione. Il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano 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 i diritti. Il presidente del Comitato italiano per i diritti dell'uomo che erano 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 i diritti. io avevo parlato di pari semestri di tutta la prima l'exposizione a l'Italia e ho anche Sandro Trotti che è stato un poeta di roma che è stato un poeta di roma e è stato un poeta di pietre e il poeta anche con lui c'è un complessivo di 500 anni di tradizioni artistiche di romazzanso c'è anche Clara Strada che va parlare della fine del rapporto dell'intelligenza a Russi e non c'è più dell'intelligenza dell'opposizione è stato un poeta di roma dell'intelligenza l'intelligenza non è una categoria sociale e professionale l'intelligenza è un dispositivo di parole l'intelligenza è un poeta di roma 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 franzoale è un poeta di roma l'intelligenza 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 è un poeta di roma Io voglio le questioner, justement, sull'Europe culturale e sulle attrazione a propos di la lettera del paese d'Europe. C'è un'altra question che io non ho anticipato. C'è un'altra question che io non voglio parlare di oggi. È arrivato, va arrivare l'acquisizione di Dmitri Likarchev. C'è un'altra confirmation. La liste è facile. La liste è facile. C'è l'opera. C'è un'attentante della riservazione del cric, di rispondere a un studente che non potrebbe volare me domandare, che io presentare i diversi partecipanti. Io vedo qui, che non potrebbe essere stato un'attentante. Ovviamente, questo è quello che sarà a fare, in modo che il congresso non metà. C'è un'attentante della riservazione del cric. Io vedo qui, il nostro concetto di Dmitri Likarchev. Io vedo qui, il nostro concetto di Dmitri Likarchev. è un concetto di Dmitri Likarchev. C'è un concetto di Dmitri Likarchev. è un concetto di Dmitri Likarchev. Adesso che, l'ultimo, questa è stata una scelta tecnica della università di Dmitri Likarchev. C'è un concetto di Dmitri Likarchev. Ha scelto di Dmitri Likarchev. che è stato un gesto culturale internazionale. ma ora dirà un bacio a San Pateresburgo e a partire di quelle delle cose insieme vedi come sempre da le change culturelle si 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 Béaka? Svebrano persone lzefattanti sono venuto in montii cigare village? d'altro sono venuto da Mosca magari erano proprietariばili del paese gli altri sono Kimi e gli erano si è tutto fei. Io vorrei dire che questa restaurazione è in effetti uno. E fosse un'errore, se ci sarebbe stato bene, se ci sarebbe un'altra cosa che sia, se ci sarebbe stato un'errore. Perché si è divinato di scuola a partire di ora, ora si è deciso, non possiamo fare un'errore, con leggermente decidere, si porsi iniziamo con la traduzione consicretiva con il sinfrono periodo, in modo abbastanza problematico. Quindi, se la risposta è più negativa, perché la farce di continuare a dire che il papi è segnato per la maire, le recensione... E questo è un po' semplice, quando ci sono presentati con la leggera, con la leggera che non faccio i suoi obiettivi. E questo è un po' semplice. E noi dovremmo decidere, se possibile, con la leggera, con la leggera, con la leggera, con la leggera, con la leggera. questo è l'effetto che abbiamo fatto e noi organizziamo il congresso in 40 mesi con le difficoltà in cui la nostra voce ma stricchia già la stagione la stagione non mi sembra di dire che la restaurazione va a essere fatta e la restaurazione è fatta io credo che non si riesco a dire Io ho visto che il caralese può essere riuscita a qualcuno. In un'intervallo mi ha detto che il cristiano è arrivato, che si va installare il momento. Mi ha detto che il tecnico dovrebbe essere arrivato, e ora si è tutto questo. e vediamo e e e e e e che che è la PARIESIÊN's commitsцы manipulazione della per discussione LAURA L'EVA 0 Home Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.